Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2021-2023. Il Presidente del Consiglio Stefano Allasia ha ringraziato consiglieri e funzionari per il lavoro svolto. Il bilancio è un traguardo importante per la nostra regione che da oltre un anno convive con una grave emergenza. Spero che il voto di oggi sia di buon auspicio per il rilancio del Piemonte. Tra le cifre più rilevanti stabilite dal documento, entrate e di conseguenza uscite in competenza sul 2021 per 19,928 miliardi di euro e 23,502 miliardi di cassa, mentre per l'esercizio 2022 sono previste entrate di competenza per 18,993 miliardi e per l'esercizio 2023 sono previste entrate in competenza per 18,621 miliardi. 8,9 miliardi vanno al solo comparto sanitario, in aumento rispetto agli 8,7 del bilancio precedente. 10 milioni sono destinati agli emotrasfusi, altri 10 alla medicina territoriale, per gli extra-LEA 50 milioni. 412 milioni saranno destinati a lavoro e formazione, 79 milioni all'istruzione e diritto allo studio, 226 milioni alle politiche sociali, 192 milioni andranno alla tutela del territorio e dell'ambiente, 232 milioni allo sviluppo economico e competitività, 695 milioni andranno a trasporto e diritto alla mobilità, per agricoltura e politiche agroalimentari 83 milioni, alla cultura 79 milioni, al turismo 35 milioni, mentre 19 milioni andranno a politiche giovanili, sport e tempo libero. Gli obiettivi del bilancio sono stati espressi dai relatori di maggioranza. La legge di bilancio in discussione si inserisce quest'anno in un contesto dai tratti ancor più eccezionali, un momento in cui l'emergenza sanitaria ha comportato una drastica riduzione delle entrate. Abbiamo ritenuto di costruire un documento economico-finanziario che desse risposte concrete ai piemantesi. Lo possiamo definire un bilancio di previsione fondato sul rispetto, nei confronti di minoranza, maggioranza, indicazioni della Corte dei Conti, del lavoro dei commissari, delle istanze, di chi anche fuori dall'istituzione ha chiesto di essere ascoltato. Secondo i relatori di minoranza il provvedimento presenta invece alcuni limiti. È un bilancio molto tecnico, poche scelte politiche se non tagli trasversali. Certo siamo in un momento di difficoltà ma spesso è proprio nei momenti di difficoltà che si trova il coraggio di cambiare, di dare una svolta. A me pare che questo bilancio prescinda dalla pandemia, non tenga conto della pandemia o ne tiene conto in maniera del tutto insufficiente e soprattutto non guarda i prossimi mesi, non guarda al rilancio dell'economia del Piemonte. Nel corso dei lavori è intervenuto anche il Presidente della Regione Alberto Cirio che ha ricordato il grande lavoro svolto dalla Giunta così come da tutta la struttura del Consiglio regionale. La discussione sul bilancio 2021-2023 si è conclusa con l'approvazione di diversi ordini del giorno presentati da maggioranza e opposizione. A firma di Daniele Valle, Raffaele Gallo e Domenico Rossi, Partito Democratico, Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, Paolo Ruzzola e Alessandra Biletta, Forza Italia, Silvio Magliano, moderati e incentrati sui temi della sanità, scuola, imprese, politiche sociali.